Come correggere il messaggio di errore stampante non collegata a Internet per HP Instant Ink? Se si utilizzano reti pubbliche o guest quali, ad esempio, quelle che si trovano in università, negli alberghi o nei bar, la stampante non sarà in grado di collegarsi a Internet. Tali reti non sono compatibili con HP Instant Ink. La stampante deve essere connessa a Internet direttamente tramite Wi-Fi o Ethernet. Stabilire una connessione USB con un computer non è sufficiente per collegarsi a Internet. Verificare che il router sia acceso e collegato a Internet. Verificare il funzionamento collegando un altro dispositivo alla stessa rete. Se non è possibile collegarsi a Internet, riavviare il router. Se il problema non si risolve, contattare il proprio fornitore di servizi di connessione. Controllare la connessione di rete della stampante. Se il collegamento avviene in modalità wireless, la spia blu sulla stampante dovrebbe essere fissa. Se la spia non è accesa o lampeggia, spegnere la stampante e il router. Quindi riaccenderli. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario configurare nuovamente il Wi-Fi sulla stampante. Se la stampante è collegata tramite Ethernet, accertarsi che la spia accanto alla porta Ethernet sia accesa. In caso contrario, controllare nuovamente il cavo Ethernet. Se la spia non è accesa o lampeggia, spegnere la stampante e il router. Quindi riaccenderli. Verificare che i servizi web siano attivati. Se la connessione al servizio Instant Ink viene interrotta, è possibile che si verifichino degli errori. Una volta connessa la stampante a Internet, accedere al proprio account HP Instant Ink. Verificare lo stato della stampante nell'area dello stato. Se lo stato riporta l'opzione Pronto per la stampa, spegnere e riaccendere la stampante. Se l'errore scompare, la stampante in uso è collegata. Se viene visualizzato il messaggio non pronto per la stampa, aggiornare la pagina o ricaricare la pagina web dell'account. Ripetere questa operazione fino a 5 volte finché lo stato indica Pronto per la stampa. Se ancora non si riesce a collegare la stampante, contattare l'assistenza HP Instant Ink. Altri video utili sono disponibili sul canale YouTube di HP Support.